Maurizio Laudicini ed Elena Dibrino lasciano uomini e donne. La loro uscita di scena avviene in modo abbastanza turbolento. Ciò accade nel momento in cui Maria De Filippi rivela di aver saputo dalla redazione cosa si sono detti Barbara De Santi e Maurizio durante il luogo. Il Cavaliere ha svelato alla dama che Elena ha intenzione di lasciare il programma. Una volta conclusa la registrazione. Dibrino conferma. Ammettendo non riuscire più a reggere questa situazione. Nel corso della puntata di ieri, Maria ha smontato Maurizio ed Elena. Ci sono sempre più sospetti su questa coppia. In quanto i comportamenti tenuti da entrambi sono abbastanza ambigui e contraddittori. Neppure la conduttrice riesce a trovare un lato positivo in tu. E tu che fai? Non la segui? Chiede subito De Filippi rivolgendosi a Maurizio. Barbara fa sapere che, durante il ballo, lui le ha assicurato che non seguirà Elena. A questo punto, la De Santi consiglia di nuovo al Cavaliere di lasciare il programma. Così anche più tempo per viversela. Infatti, spesso i due hanno trovato difficoltà a incontrarsi per via degli impegni di lui. Evitando di prendere parte due giorni a settimana alle registrazioni del programma. Avrebbe più tempo per conoscere Elena. In effetti. Non è che se uscite da qui vi dovete sposare. Quante volte sono uscita io dal programma? Continua Barbara. Angelica si scaglia contro Maurizio. Facendogli notare che il suo comportamento è davvero molto strano. La dama riesce a stroncarlo. Riportando il pensiero di tutti. Elena mi dispiace. Ma hai di fronte la realtà. Afferma De Filippi a uomini e donne. Ormai convinta che il Cavaliere è poco chiaro e si contraddice da solo. Niente lui mi prende troppo e non riesco a gestire. Ma non è detto che rinuncio così a lui. Bisognerà vedere cosa farà lui. Dichiara la dama. Tina Cipollari è sicura che Maurizio non farà nulla e che non la seguirà. Gianni Sperti si dice convinto che lei sia ormai innamorata. Maria interrompe tutti e fa sapere che la redazione le ha rivelato che il giorno prima Elena ha ammesso che Maurizio si è detto innamorato. Grazie. Grazie.